La Puglia ha un nuovo abitante ad onore, il suo nome è Vasco Rossi. Il cantante di Zocca è il primo cittadino onorario della Puglia creativa, un riconoscimento destinato a quelle personalità di spicco che nella nostra stupenda regione sviluppano i propri percorsi creativi. Vasco ormai trascorre la maggior parte del tempo a Castellaneta Marina, diventato ormai il luogo di ispirazione del COM. La Puglia, per il cantautore, è regione del buon ritiro artistico. Insomma, Vasco ama la Puglia e la Puglia ama Vasco. Presso la sede della Presidenza della Regione Puglia, il Presidente Niki Vendola e l'Assessore alla Cultura e Turismo Silvia Godelli gli hanno consegnato la pergamena con le motivazioni del riconoscimento ed una bella chitarra di cartapesta. Vasco ama i sapori, gli odori e il mare cristallino della nostra terra, ma soprattutto ha tanti ricordi legati al Tacco d'Italia, con certi belle donne e amici che lo hanno sempre trattato come uno di famiglia. A pochi giorni dall'inizio del suo tour andiamo a sentire la soddisfazione del Vasco pugliese. Il primo pensiero che hai avuto quando Niki Vendola ti ha chiamato per dirti di questa onoreficenza? Beh, è stata una grande, voglio dire, sorpresa, ma una grande soddisfazione, perché sinceramente non mi aspettavo. Io ho avuto veramente grandi soddisfazioni nella vita, dalle canzoni, dalla mia attività artistica, ma un affetto così e una stima così io non la sarei mai neanche immaginata.